No, perché le canzoni, se le canzoni vuol dire che sono proprio arrivate dove devono arrivare, le canzoni non lo scrivono, non è cultua, diventa un santimitore, è una creatura, diciamo così, che diventa sua, diventa un'anima della sera, quindi se la gente le canzoni vuol dire che se siete proprio, qui si vuol dire che la questione è condivita, quindi questo è un po' di potere, poi 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 è un po' di potere, perché qui si fa la storia di un concetto concepito proprio come una storia lunga davanti. Sì, questa volta questo concetto è un concetto di letto che è anche questo, e soprattutto se non sono cambiati letto, dalla professora canale a letto, perché quest'anno sono cambiati letto, ci sono stati, tanti tempi sono sempre cambiati letto, perché si cambia sempre, si inabiterà, continuano di vedere, no, cioè, però quest'anno sono cambiati letto anche, era bene, ci sono stati soliti due, due uomini, più uomini, partenista, cioè partenista a miglioranza, che già sta molto, anche molto, sull'ambiente, c'è una parte più potente, uno che sarà veramente l'implicabile, per rispetto con anche gli insetti, quindi vedendo la prova generale, visto che c'è una potenza, un impatto veramente forte, come se le canzoni non sono state tutte riscritte per questo concetto, esatto, e come si può essere anche perché sono più disuonate, sono anche molto più, con una parte, una bella, più potente, anche perché si può, si, mi ricrezzare come se ho una, una spiegatessa di rischi differenti, un sacco è una spiega, mi dà, non si scherza il caso, si piega il caso, ma è un'ultima cosa, mi vorrebbe le italia del 18, ah beh, c'è un'altra cosa, Grazie. 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 Grazie.